Mario Quaglieri, medico chirurgo in una struttura sanitaria privata e assessore regionale al bilancio. Su questa doppia valenza le opposizioni in Consiglio regionale hanno invocato l'inammissibilità. La maggioranza, forte di un parere dell'autorità nazionale anticorruzione, è invece ribadito la totale regolarità. A fronte però di una situazione non totalmente chiara interviene Camillo D'Alessandro, segretario regionale di Italia Viva, che ha oggi presentato una proposta di legge dal titolo inequivocabile, norma in materia di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse nel settore sanitario regionale. In sostanza si stabilisce per legge che chi ricopre incarichi pubblici regionali non possa avere rapporti di collaborazione lavorativa con strutture sanitarie private. Non può accadere, perché accade solo nella Repubblica delle Banane, che un contrattualizzato a qualsiasi titolo nella sanità privata possa essere anche decisore pubblico, cioè consigliere regionale o assessore. Se approvata questa legge regionale questa cosa non accadrà più, perché in ultima istanza, laddove non rimosso il conflitto di interesse, la Regione promuove una revoca della convenzione, quindi del finanziamento della struttura privata. Io credo che vada introdotto non solo per gli ultimi fatti di cronaca accaduti, ma perché è un principio sacro santo che vale per il governo nazionale, c'è una legge sul conflitto di interessi per chi svolge un incarico pubblico, non c'è a livello regionale. Ecco, io invierò oggi stesso, a partire dal Presidente della Regione, a tutti i consiglieri regionali, questa proposta di legge che se non dovesse arrivare in consiglio regionale, noi raccoglieremo le firme e lo porteremo con la forza dei cittadini in consiglio regionale. A parte questo sulla situazione sanità in Abruzzo, ieri è arrivato l'ok dai Ministeri di Salute, Economia e Finanza per quel che riguarda la copertura al disavanzo, basterà? Non basterà perché il disavanzo non è che si ghiaccia, ogni anno, ogni mese produce ulteriore disavanzo perché i manager non hanno messo in campo nessuna azione, ma tu non metti più tasse, e pare che questa sia la grande notizia, ma quei soldi in qualche maniera li devi cacciare e li cacci come? Tagliando servizi, tagliando assistenza, facendo in modo che tutto ciò che hanno detto, tra l'altro in campagna elettorale, è esploso con questo maxi deficit, ma non basta solo questo, il problema è che non c'è un senso di cosa vogliono fare in sanità. La conseguenza della decisione proprio di ieri è che tu non metti le tasse, ma devi recuperare i soldi in altro modo e in sanità si recuperano i soldi tagliando.